Ciò che accompagnerà il nostro cammino durante queste tre sere, che ci vedranno impegnati in questi esercizi spirituali nel cuore della Quaresima, sarà il grande tema della preghiera, che è un tema così grande e così difficile da riuscire a racchiudere anche in una riflessione, in una meditazione. Bene, abbiamo pensato allora di fare insieme come tre tappe, tre strade che possano aiutarci ad entrare dentro il mistero della preghiera, a dire qualcosa, ma soprattutto spero che queste serate possano farci venire voglia di metterci a pregare, perché non c'è nessun altro modo di capire che cos'è la preghiera se non cominciare a pregare. La preghiera infatti non è una questione di ragionamenti, non è una questione di riti, non è una questione di parole, è qualcosa di molto più profondo, di più decisivo, è qualcosa che tocca il cuore stesso della nostra vita. Ma prima di entrare nel tema di questa sera, che è la preghiera in rapporto alla miseria, preghiera e miseria, mi piacerebbe dire una parola, una sola parola che possa dare luce all'esperienza della preghiera, dire almeno per noi che cosa significa pregare, che cos'è la preghiera. Ma per poter rispondere a questa domanda in realtà, noi dobbiamo domandarci che cos'è che rende la vita qualcosa di buono. Tante volte siamo convinti, anche nel nostro linguaggio comune, che basta avere la salute, allora è una vita buona la nostra. Oppure basta che le cose nella nostra vita funzionino, funziona un lavoro, funziona quello che abbiamo, un mestiere. Oppure pensiamo che in questo modo la vita è una vita buona, oppure pensiamo che una vita buona è soltanto una vita fortunata, cioè una vita in cui noi riusciamo a dominare gli eventi, le cose che ci accadono. Ma penso che tutti noi abbiamo fatto esperienza di renderci conto che si può avere la salute ed essere infelici. Si può avere un lavoro ed essere infelici. Si possono avere molte cose ed essere infelici. Perché in realtà ciò che rende la vita qualcosa di bello non si trova mai nelle circostanze, nemmeno in quelle del nostro corpo. Ciò che rende la nostra vita qualcosa di buono lo possiamo trovare solo nelle relazioni. Quando nella tua vita hai delle relazioni significative, allora la tua è una vita buona, è una vita che può essere felice. E importa poco se hai o no la salute, importa poco se hai molte o poche cose, se hai delle persone che ti vogliono bene, tu vuoi bene a qualcuno, puoi affrontare tutto, puoi vivere tutto. La nostra vita dipende dalle relazioni della nostra vita. E questo è il grande insegnamento che tante volte noi dimentichiamo. Che se vogliamo capire qualcosa della nostra vita, dobbiamo guardare le nostre relazioni. Perché è importante dire questo per spiegare la preghiera? Perché la preghiera è una relazione, è la relazione con Dio. Ora, se con Dio possiamo entrare in relazione, la nostra vita cambia completamente. Se tu sai che puoi contare su qualcuno, l'atteggiamento che tu hai nei confronti delle cose è completamente diverso. Se tu sai di essere solo, allora cambia tutto ulteriormente, tutto diventa faticoso, difficile, a volte oscuro. Se noi dovessimo dare una definizione di inferno, dovremmo dire che l'inferno è la solitudine. E quando non abbiamo relazioni significative, e soprattutto quando ci manca la grande relazione, che è la relazione con Dio. Quando tu non hai una relazione con Dio, la tua vita è un inferno. Cioè, comincia a pesarti. Non riesci ad affrontare le cose, anche se apparentemente gli ingredienti ci sono tutti. Allora capite che la preghiera non è qualcosa di marginale, non è uno sport che possiamo praticare o meno, è qualcosa di vitale. Se vogliamo avere una vita dove il desiderio di felicità possa davvero emergere, dobbiamo imparare a pregare. E forse già preghiamo, ma non ce ne accorgiamo, perché magari non abbiamo mai riflettuto in che modo noi entriamo in relazione con Dio. Abbiamo bisogno però, e spero che queste sere possano esserci di aiuto, di capire lì dove non c'è questa relazione, come questa relazione può diventare più profonda, più significativa, più affidabile. Ma finché noi non ci convinciamo che la preghiera è relazione con Dio, continueremo a rifugiarci nella religione. E cioè, in semplici riti, in parole ripetute, in gesti che magari abbiamo imparato e facciamo con abitudine, ma che non sono significativi perché non dicono un rapporto. Abbiamo bisogno di recuperare questa verità di fondo, questa verità che abita davvero il senso della preghiera. Basta leggere il Vangelo per accorgerci che Gesù, entrando nella storia, ed entrando nella nostra storia, in realtà altro non ha fatto che insegnarci a pregare. Perché Gesù ha passato tutta la sua vita cercando di costruire relazioni con le persone che incontrava. Parlava, guariva, toccava, rimproverava, consolava, incoraggiava, offriva a se stesso. La persona di Gesù è la possibilità della preghiera, perché se noi possiamo entrare in rapporto con Dio, non entriamo in rapporto con Dio in astratto, ma attraverso di Lui. Eppure, quando leggiamo il Vangelo, ci accorgiamo che la maggior parte delle persone che cercano Gesù non lo cercano perché è il Figlio di Dio. E paradossalmente non lo cercano nemmeno per le cose che dice. La cosa che impressiona di Lui è che Lui ha la capacità di cambiare le cose che a noi non piacciono. Un malato si rivolge a Lui per essere guarito, un indemoniato viene portato da Lui per essere liberato, la fame delle persone viene saziata attraverso la moltiplicazione dei pani e dei pesci. Insomma, la prima cosa che incontra Gesù sono i nostri bisogni. Potremmo dire la nostra miseria, la nostra mancanza. Con molta onestà dobbiamo dire che quando noi preghiamo, non preghiamo perché ci interessa innanzitutto Gesù, ma perché abbiamo qualcosa da domandare. E non dobbiamo vergognarci perché il punto di partenza vero di ogni nostra preghiera è sempre quello di cui noi abbiamo bisogno. Solo con il tempo la nostra preghiera si converte. Cominciamo ad accorgerci che c'è qualcosa di più interessante che trovare semplicemente la soluzione ai nostri bisogni. E' chi possiamo incontrare mentre cerchiamo una soluzione ai nostri bisogni. Accorgerci che se è vero che solitamente preghiamo quando abbiamo bisogno, una persona che ha iniziato a pregare si accorge di aver ricevuto molto più che semplicemente la risposta al proprio bisogno. Ha ricevuto qualcuno, l'incontro con qualcuno. Allora così capita nella vita delle persone che nei momenti più drammatici, più difficili, ci si rivolge a Dio. E quando si prega davvero perché si è disperati, il Signore ascolta la nostra disperazione. Ma poi tu ti accorgi che non soltanto il Signore prende sul serio la tua disperazione, il tuo dolore, la tua sofferenza, ma ti cambia. E tu cominci a vedere delle cose che prima non vedevi, a capire cose che prima non capivi. Ti accorgi che in quella disgrazia era nascosta una strada e che pregare ha aperto un varco nel buio. Allora capite che ognuno di noi deve imparare in qualche modo a partire da ciò che gli manca, dal proprio bisogno. A non avere paura di manifestare quello di cui ha bisogno e comprendere che il Signore ha la capacità di cambiare le nostre richieste e trasformarle in un incontro. Ma questa sera che cosa ci aiuta nella nostra riflessione? Questa bellissima pagina del Vangelo di Matteo. E questa pagina è bella perché in fondo dietro questo racconto, uno dei tanti che troviamo nel Vangelo di Matteo, e non è la prima volta che i discepoli si trovano in balia delle acque, in una tempesta, sempre immagine di quei momenti della vita dove noi arranchiamo, dove ci troviamo faticosamente a lottare per rimanere vivi, per non perdere la speranza. In un racconto proprio così, noi troviamo che cos'è la preghiera, in che modo la preghiera può cambiare la nostra vita, in che modo la preghiera si rapporta alla nostra miseria. Matteo inizia con questa annotazione. I discepoli sono da una parte e si trovano in una barca, mentre Gesù, congedata alla folla, dice salì sul monte in disparte a pregare. E Gesù da solo a pregare, lì sul monte. E venuta la sera, dice egli se ne stava lassù, da solo. Ci sono due solitudini, la solitudine di Gesù e la solitudine dei discepoli. finché queste due solitudini non si incontrano, non accade la preghiera, non accade un cambiamento, non accade una consapevolezza che man mano si farà spazio nel cuore dei discepoli. Ognuno di noi molto spesso si accorge che va avanti a forza di volontà, ci mette carattere nelle cose, un po' come capita a questi discepoli. Matteo dice che si trovavano lontani dalla spiaggia, lontani dalla riva, erano già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde la barca su cui si trovavano. e il vento era contrario. È un po' l'esperienza della nostra vita e lo sforzo a volte di remare controcorrente. E noi cerchiamo di mettercela tutta, di metterci tutta la nostra creatività, tutto il nostro carattere, tutte le nostre capacità. Ma arriva un momento in cui ci domandiamo se riusciamo davvero ad andare avanti, fin quando resisteremo ad andare avanti. Sapete cosa significa questo? Che nel cuore di ciascuno di noi a un certo punto balza una domanda. Ma ce la faremo ad arrivare fino in fondo? Riusciremo ad affrontare tutto quello che ci sta succedendo, capitando? Riuscirò a mantenere in piedi questa famiglia se mi poggio solo sulle mie forze. Questa relazione durerà se si poggia semplicemente sulla mia capacità di farla durare questa relazione. Affronterò le difficoltà che ho nella vita se posso basarmi solo e soltanto su quello che io so fare. Che cos'è la disperazione? Accorgersi che tu stai facendo tutto il possibile ma tutto il possibile non basta. Allora succede nel nostro cuore qualcosa di drammatico. Cominciamo a sentirci soli affaticati e soli anche se viviamo in mezzo agli altri anche se siamo in una famiglia in una comunità anche se siamo circondati da tante persone cominciamo a non sentirci più capiti perché in fondo noi stiamo vivendo soli usando tutte le nostre forze. La stanchezza, la fatica aumenta il senso di incomprensione il senso di solitudine. Che cosa desideriamo in quel momento? Di non essere soli di trovare qualcuno che ci aiuti ad affrontare quello che ci sta capitando il nostro più nascosto desiderio è poter svegliarci la mattina e affrontare tutto quello che dobbiamo fare sapendo di non essere soli. L'inconfessato desiderio di questi discepoli è di non essere soli a remare controcorrente mentre il mare è in tempesta ed è buio. Allora che cos'è che può rispondere a questo loro bisogno? Gesù eppure guardate la reazione che hanno i discepoli quando Gesù cerca di entrare nella loro solitudine nella loro fatica la reazione che hanno quando questo loro desiderio sembra trovare una soluzione perché Gesù gli sta andando incontro eppure non reagiscono così come dovrebbero reagire. sul finire della notte egli andò verso di loro camminando sul mare e vedendolo camminare sul mare i discepoli furono sconvolti e dissero è un fantasma e gridarono dalla paura è paradossale amici desideriamo non essere soli desideriamo che qualcuno si manifesti nella nostra vita e non ci lasci da soli ma quando il Signore ci viene incontro noi invece di accoglierlo siamo spaventati desideriamo che il Signore possa aiutarci ad affrontare la tempesta ma quando il Signore entra in quella tempesta noi ci chiudiamo e sapete perché? perché finché Dio è un'ipotesi è bello pensare che a un certo punto Dio possa aiutarmi ma quando Dio comincia ad entrare nei fatti della mia vita noi siamo spaventati perché non ci crediamo che Dio è reale e quando Dio si manifesta come reale noi pensiamo che sia un fantasma che non sia vero che sia una nostra illusione e così invece di accoglierlo lo rifiutiamo voglio sottolineare questa fatica che noi facciamo perché tante volte Dio si manifesta dentro la nostra vita e la reazione che noi abbiamo è quella di non riuscire ad accoglierlo fino in fondo perché quando Dio entra nella vita non comandi più tu devi lasciare le redini devi fare una cosa difficilissima che si chiama fidarsi e a noi che ci hanno abituato di vivere sempre da soli di dover affrontare tutto da soli di dover andare avanti solo con le nostre forze non ci viene spontaneo fidarci abbiamo paura di fidarci abbiamo paura di credere che c'è qualcuno che vuole avere cura di noi e che vuole entrare dentro la nostra vita per aiutarci in quel momento ci accorgiamo che abbiamo sempre desiderato che qualcuno entri nella nostra vita ma quando questo accade noi vorremmo cambiare le carte in tavola non vogliamo lasciare le redini non vogliamo lasciare il comando credo che tante volte abbiate sentito parlare di questa parola così strana che si chiama vita spirituale sapete che cos'è la vita spirituale è la vita di Dio è l'azione di Dio che è dentro ciascuno di noi e quando tu ti accorgi di essere abitato dalla vita di Dio dentro di te e che questa vita si muove dentro di te ti spinge a fare qualcosa ti conduce ti accompagna tu sei spaventato perché tu sei abituato ad andare avanti solo con la tua ragione solo con i tuoi ragionamenti solo con quello che tu capisci solo con quello che tu misuri solo con quello che tu tieni sotto controllo chi vive la vita spirituale deve imparare a fidarsi di qualcosa che è più grande dei propri ragionamenti che è più grande della propria esperienza solo così a un certo punto si fa spazio dentro di noi un cambiamento qualcosa che effettivamente può portare una novità una qualità nuova nella nostra vita allora così come siamo abituati solitamente quando nel Vangelo tutti devono domandare qualcosa alla fine chi è che si fa portavoce di questa domanda Pietro Pietro dice a Gesù esattamente questa parola Signore se sei tu cioè se sei veramente tu se sei veramente Dio se sei veramente quello che noi stiamo aspettando quello che noi desideriamo se tu non sei un fantasma non sei un'illusione non sei qualcosa contro di noi se sei veramente tu comandami di venire verso di te sulle acque cioè dammi la capacità di poter affrontare quello che sta accadendo esattamente come tu lo affronti noi lo affrontiamo con la fatica dei remi tu cammini sulla tempesta mi sembra una domanda una richiesta lecita in realtà Pietro sta dicendo vorremmo fidarci ma dacci la capacità di poter credere che possiamo davvero fidarci e Pietro dopo questa domanda si sente dire da Gesù vieni allora scende dalla barca e comincia a camminare sulle acque e va verso Gesù mi piacerebbe a questo punto poter dire fermiamo qui il Vangelo perché finalmente è successo un miracolo Pietro scende dalla barca e cammina sulle acque punto e invece no sentite cosa accade ma vedendo il vento che era forte si impaurì e cominciando ad affondare gridò Signore salvami in realtà Pietro in quel momento si accorge che deve scegliere se credere a Gesù o credere alla tempesta quando crede a Gesù cammina sulle acque quando crede alla tempesta affonda vedete amici la preghiera è anche decisione perché nella preghiera noi veniamo messi costantemente davanti a questa decisione vuoi credere a quello che ti sta dicendo il Signore cioè che non sei solo che non sei sola che non sei abbandonato o abbandonata la tempesta che anche se tutto ti è contro il Signore è con te è dalla tua parte vuoi credere a questo o vuoi credere agli eventi alla tempesta è nella preghiera che noi decidiamo a che cosa credere e quando nella preghiera ci fidiamo di Lui allora troviamo la forza di affrontare tutto quando nella preghiera non ci fidiamo di Lui ma ci fidiamo degli eventi affondiamo allora qui possiamo scorgere un'altra cosa la miseria non è semplicemente abbiamo bisogno di qualcosa e la cerchiamo la miseria è trovarsi nella condizione di non essere mai certi di qualcosa e di dover sempre decidere di dare fiducia a qualcosa ve lo dico perché tante volte noi pensiamo che a un certo punto se una persona prega tutto gli è chiaro una persona prega e tutto non ha più ambiguità una persona prega e ha risolto tutti i suoi problemi no il Signore non fa così ci mette sempre nella situazione in cui noi rimaniamo liberi tu sei libero di credere che sia vero e sei libero di credere che non sia vero quando tu credi che è vero cammini quando tu non credi che è vero affondi allora sarebbe bello se ognuno di noi potesse domandarsi ma com'è la mia preghiera quando io prego mi fido o la mia è solo una preghiera disperata prego perché mi voglio autoconvincere o prego perché mi sto abbandonando nelle mani di qualcuno prego perché so di non essere solo o prego semplicemente perché vorrei non essere solo ma in realtà sono solo non dobbiamo guardare le parole che diciamo né le performance che facciamo quando preghiamo dobbiamo guardare che intenzione nel cuore abbiamo che cosa abbiamo deciso nel profondo del nostro cuore siamo miseri siamo poveri siamo come pietro che affonda ma sapete qual è la grande lezione che ci dà pietro che anche se non ci crede fino in fondo anche se sta affondando riesce a pregare anche in quel momento e allora cominciando ad affondare gridò signore salvami io credo che non esista preghiera più bella del grido e cioè quando abbiamo l'acqua alla gola smettiamo di fare troppi ragionamenti non c'è tanta teologia nella nostra preghiera la nostra preghiera diventa una richiesta precisa salvami tirami fuori e Gesù subito tese la mano lo afferrò e gli disse uomo di poca fede perché hai dubitato capite qual è il problema noi non preghiamo per non dubitare noi preghiamo affinché davanti alla possibilità di dubitare decidiamo il contrario noi preghiamo per ricordarci che non siamo soli noi preghiamo affinché a un certo punto credendo alla parola del signore la nostra vita cambia radicalmente è in questa relazione che tutto prende una fisionomia diversa una luce diversa allora se tu sei un padre ma sai che non sei solo nel fare il padre tutto cambia se tu sei una madre e sai di non essere sola nell'essere madre tutto cambia se tu hai una malattia e sai di non essere solo in quella malattia tutto cambia se a te manca qualcosa e sai che puoi domandare questo qualcosa a qualcuno tutto cambia ma per noi è così o no che cos'è per noi la preghiera è l'evidenza di non essere soli o è un grido di solitudine allora capite che imparare a pregare significa imparare a fare i conti con la propria miseria capire che in fondo noi siamo tutti un po' come Pietro che vi ricordo è l'uomo su cui Cristo fonda la sua chiesa e quest'uomo su cui Cristo fonda la sua chiesa la roccia su cui fonda la sua chiesa viene definito in questa pagina del Vangelo uomo di poca fede ora se Pietro è un uomo di poca fede significa che possiamo permetterci tutti di essere di poca fede infatti noi dovremmo pregare per imparare ad avere fede pregare per imparare a fidarci pregare per imparare a dare fiducia allora è bello pensare che il Signore ci ha donato questa relazione che si manifesta nella preghiera non per toglierci la libertà attenzione non per risolvere i problemi al posto nostro non per sostituirsi a noi ma per dire che noi possiamo vivere tutto affrontare tutto perché Lui è con noi e anche quando noi non abbiamo le forze e anche quando noi abbiamo finito il nostro possibile sappiamo che nella nostra vita c'è qualcuno che ha la capacità di camminare sulle cose che solitamente a noi devastano appesantiscono rallentano che noi siamo amati da uno che ha potere su quelle cose che ci fanno paura allora più cresce il nostro rapporto con Lui più non abbiamo paura della nostra miseria più cresce il nostro rapporto con Lui più sappiamo di non essere soli più cresce il nostro rapporto con Lui e più la nostra vita cambia in che modo Matteo lo descrive in questo modo e subito Gesù tese la mano lo afferrò gli disse uomo di poca fede perché hai dubitato e appena saliti sulla barca il vento cessò non so se a voi vi è mai capitato nella vita di fare questo tipo di esperienza cioè l'esperienza di trovarvi davanti a qualcosa davvero di difficile e magari in quel momento qualcuno vi ha messo una mano sulla spalla che miracolo una mano sulla spalla sentire addosso che c'è qualcuno in quel momento cambia tutto tutto si rasserena non perché la tempesta ha smesso di essere tempesta sono cambiato io tutto diventa calmo perché ho ritrovato io la calma questo lo sapete perché è importante tante volte noi preghiamo per cambiare le cose il ruolo principale della preghiera è cambiare noi davanti alle cose Dio ha anche il potere di cambiare le cose intorno a noi ma il vero miracolo è che cambio io e che quella calma ce l'ho io non c'è più tempesta nel cuore dei discepoli non c'è più buio non c'è più vento contrario quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui dicendo davvero tu sei figlio di Dio vedete come è partito dall'inizio due solitudini e questo racconto finisce con una professione di fede è un po' quello che dovrebbe succedere nella nostra preghiera partiamo sempre da una cosa di cui abbiamo bisogno ma poi alla fine della nostra preghiera dobbiamo arrivare sempre a fare la nostra professione di fede San Paolo avrebbe tradotto tutto questo in una frase bellissima che forse può essere la grande sintesi di quello che ci siamo detti questa sera dice Paolo se Dio è con noi chi sarà contro di noi pregare e avere la certezza che Dio è con noi e proprio per questo poter affrontare tutto poterci permettere di essere deboli perché comunque Dio è con noi poter accettare di non vincere sempre perché Dio è con noi poter avere circostanze che tante volte ci dicono siamo davvero sfortunati nella vita ma possiamo affrontarle queste cose perché Dio è con noi se Dio è con noi chi sarà contro di noi allora chiediamo al Signore questa grazia di tornare a pregare così di tornare a pregare senza avere paura della nostra incredulità di tornare a pregare pensando che la preghiera non deve risolvere i problemi ma deve aumentare la mia fiducia di pregare sapendo che se il Signore mi dice che con me io posso affrontare anche la cosa più difficile fratelli non è una suggestione è un fatto e quando tu preghi questo fatto si manifesta dentro di te in questo senso la preghiera può risolvere tante cose perché la preghiera vince l'inferno della nostra solitudine perché la preghiera calma tutte le tempeste che ci portiamo dentro perché la preghiera rischiara il buio ci illumina chiediamo al Signore la grazia di tornare a pregare con questa fiducia chiediamo al Signore di accogliere anche la nostra fatica e quando ci accorgiamo di non fidarci possiamo sempre pregare con questa giaculatoria che ci ha insegnato Pietro Signore salvami e subito Gesù tese la mano lo afferrò lo tirò fuori dall'acqua e gli disse uomo di poca fede perché hai dubitato grazie a tutti grazie a tutti